Tradurre i sogni in progetti è la mission di Mida Home, una realtà sempre in movimento che si divide tra la progettazione di interni ed arredamenti, galleria d'arte, showroom e store. Un'azienda tra le più innovative del settore dell'interior design e dell'edilizia è sempre in crescita nell'intero territorio siciliano. Ciò grazie alla dedizione e alla passione di due giovani imprenditori catanesi, Dario Consoli e Mirko Padalino, e dell'intero team che quotidianamente li accompagna in questo viaggio. Mida Home è anche formazione. Nella sede di Mister Bianco ha ospitato il terzo seminario patrocinato dall'Ordine degli Architetti di Catania, organizzato con l'obiettivo di rafforzare la sinergia con gli operatori del settore. Evento formativo che ha suscitato grande interesse tra professionisti, progettisti e fornitori che hanno riempito la sala. Sono delle bellissime iniziative perché può esserci un confronto tra proprio gli operatori del settore, tra noi che svolgiamo proprio questa attività di consulenza e in generale appunto di general contract nel settore edile e nel settore proprio dell'architettura in generale e anche per loro perché conoscono delle realtà che poi possono seguirli nei loro progetti. Ancora una volta e per la terza volta abbiamo imboccato questa strada legata alla formazione, alle divulgazioni di tutti quelli che sono le tecnologie costruttive. La visione aziendale è quella legata a voler diventare un player di riferimento su tutta la Sicilia orientale che parte dalle costruzioni tecniche o dalla costruzione in sé grezza, quindi dalle impermeabilizzazioni fino all'interior design dove appunto stiamo svolgendo ogni volta i nostri convegni, i nostri meeting. La volontà nostra è quella di informare, informare e informare sempre di più per farsi dare un sinonimo di garanzia al progettista ma anche all'impresa che chiede il nostro consulto. Chimica del materiale ma anche isolamento edilizio e termico sono stati temi oggetto del seminario. A parlarne i rappresentanti di due aziende leader nei rispettivi settori, San Marco e IsoSystem, che da anni collaborano intensamente con Mida Home. L'obiettivo all'interno del seminario è stato quello di trasferire a dei professionisti la consapevolezza che si può lavorare all'interno con prodotti vernicianti rispettando anche i parametri e le regole che sono dettate dall'Unione Europea, quindi con la consapevolezza che oggi si può lavorare anche con qualità e di qualità. La partecipazione che c'è stata oggi per me è stata veramente una cosa importante perché comunque portare il messaggio dell'isolamento acustico IsoSystem a 50-60 professionisti che poi vanno a redigere dei progetti è veramente importante. Studio, formazione ma anche arte e cultura, perché regalare sogni è l'obiettivo di Mida Home che per l'occasione ha trasformato il proprio showroom in una galleria d'arte inaugurando la mostra di pittura dell'artista Samantha Torrisi. Io sono stata felice di accettare perché ho visto che sono dei professionisti, gli spazi mi sono piaciuti molto e ritenevo anche in linea con alcuni dei miei lavori. Perché abbiamo scelto lei? Abbiamo scelto lei perché lei in alcune delle sue opere ha realizzato degli spazi architettonici che danno l'idea delle proporzioni e della fruizione dell'uomo nell'architettura. Oltre ai dipinti nello showroom, i presenti hanno potuto ammirare finiture pregiate e prodotti di ultima generazione per interni ed arredamenti, firmati dai migliori brand del mercato. Prodotti pratici e funzionali ma che non rinunciano mai allo stile, indispensabile per realizzare spazi da sogno. Il nostro scopo non è solo quello appunto di vendere al privato e quindi la vendita del materiale ma è soprattutto un luogo dove il tecnico, il progettista, l'architetto, l'ingegnere, comunque quello che sia che opera nel campo dell'edilizia, possa tramite noi essere sempre aggiornato sui materiali e sulle tecniche. È stato molto bello essere ospitati presso la sede di Mida perché abbiamo potuto toccare con mano i prodotti, abbiamo visto l'assortimento che è presente presso lo showroom. Sicuramente l'esperienza diretta è molto efficace nello sperimentare i prodotti materiali e le innovazioni.